Non si può far festa senza far visita al festeggiato. Lo ha detto ieri padre Francesco Mazzotta, rettore del Santuario del Santissimo Salvatore di Andria, al termine di una giornata particolare in preparazione al Natale. Oltre alla tradizionale benedizione dei bambinelli, anche gli zampognari di Monte Sant'Angelo che hanno preannunciato appunto il Natale, essendo alle siti fuori della Chiesa. Vediamo. Abbiamo voluto ripristinare un po' la tradizione che negli anni passati era, di far venire degli zampognari ad allietare un po' le celebrazioni del pomeriggio e della domenica per farci entrare un po' nel clima natalizio. Tante volte infatti si ha un po' l'idea che sì, si viva in un clima di festa, ma è un clima di festa che con il Natale ha poco a che fare. Basta andare tante volte in giro per i centri storici, eccetera, sembrano delle discoteche a cielo aperto, ma questo clima natalizio non si respira più. Certo, non è sufficiente quello, ma anche il segno esterno ti richiama al momento particolare che siamo per vivere, che è quello dell'incontro, della venuta del nostro Signore, che ci richiama all'accoglienza degli uni nei confronti degli altri, specialmente delle persone più fragili. E ha ricordato che sabato prossimo ci sarà la messa delle 23, una piccola veglia e poi la celebrazione delle 23. Non si può andare a letto senza andare prima a messa? Sì, lo dicevo poco prima, non si può fare festa senza andare a fare visita al festeggiato, cioè non si può davvero festeggiare senza il motivo, senza celebrare il motivo perché si sta festeggiando.